Due uomini tentano di rubare i ponteggi da un cantiere del Catanese. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Giarre hanno denunciato un 38enne e un 37enne di Paternò per tentato furto aggravato in concorso. I militari, dopo una segnalazione, sono intervenuti in via strada 4 femmina morta poiché erano state avvistate due persone che armeggiavano in un cantiere edile. Sul posto è stato notato un Fiat Ducato Bianco con ponteggi e barre di camminamento. Le forze dell'ordine hanno beccato vicino al furgone il 38enne. Il complice è stato individuato nelle vicinanze della struttura in ristrutturazione. Il 37enne, vedendo le autorità, ha cercato di fuggire, di mimetizzarsi tra la vegetazione. L'uomo è stato individuato e fermato. Entrambi volevano trafugare dall'aria il più possibile. Avevano pensato che fosse una buona copertura a muoversi con il mezzo noleggiato qualche giorno prima, dal 37enne, da un'ignara società di noleggio di Paternò. Entrambi sono i domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria all'esito dell'udienza di convalida.